Farete un focus in particolare sulla scogliosi in fase adolescenziale. Si può fare prevenzione? La prevenzione è oggi l'aspetto più importante della scogliosi. La prevenzione è importante perché il nostro obiettivo è quello di cercare di ridurre l'incidenza della chirurgia. Oggi si fa tanta chirurgia per la scogliosi perché spesso si arriva in ritardo a fare diagnosi di scogliosi. È importante recepire correttamente quelle che sono le linee guida delle società internazionali che prevedono degli screening in tutti i bambini a 10, 12, 14 anni proprio per cercare di intercettare la scogliosi prima che questa possa raggiungere i 40 gradi. 40 gradi che è quel valore che poi fa virare la scogliosi verso una sorta di malignità. al di sotto dei 40 gradi la scogliosi si arresta con il terminare dell'adolescenza, al di sopra dei 40 gradi questo non è possibile. La scogliosi continua ad aggravarsi di 1 o 2 gradi all'anno e a quel punto l'intervento chirurgico diventa assolutamente obbligatorio con tutte le conseguenze che un intervento comporta, i rischi che sono legati all'intervento. Dottor Piazzolla, quanto incide il fattore genetico e soprattutto se ci sono dei segnali che ci devono indurre in allarme? Qui parliamo di scogliosi dell'adolescente, di scogliosi di opatica, quindi nella scogliosi di opatica il fattore genetico è di fondamentale importanza. Non bisogna confondere la scogliosi in malattia con l'atteggiamento scogliotico, sono due cose diverse. Nella scogliosi in malattia io ho una ereditarietà genetica, quindi ho una predisposizione che acquisisco alla nascita e che poi si va a concretizzare con la pubertà perché è dipendente anche dai fattori ormonali la comparsa della scogliosi. E quindi qui abbiamo proprio una malattia della colonna vertebrale che nel momento in cui entra nella fase di crescita rapida non cresce più dritta ma cresce a forma di S. Questo va distinto invece dall'atteggiamento scogliotico in cui io ho una ereditarietà inesistente, quindi ho una colonna vertebrale normale, ma si atteggia questa colonna vertebrale come se avesse una scogliosi. E qui poi rientrano fattori differenti, ci può essere la maroclusione dentaria, ci possono essere problematiche agli arti inferiori, differente lunghezza tra le due gambe e questo però è un altro capitolo. Spesso si fa confusione tra l'atteggiamento scogliotico e la scogliosi perché noi stessi medici andiamo ad alimentare questa confusione soprattutto a livello di referti radiografici, perché per radiologo è scogliotica una colonna vertebrale che non è dritta, mentre per definizione quella sarebbe una scogliosi non perfettamente in equilibrio, perché poi se noi definiamo scogliosi su un referto radiografico questo significa aver già fatto una diagnosi e quindi spesso da un lato abbiamo bisogno di fare più prevenzione, dall'altro lato dobbiamo cercare di evitare allarmismi infondati nel refertare tutti gli esami radiografici di colonne vertebrali non perfettamente dritte come delle scogliosi, dobbiamo infatti sapere che la società internazionale di ricerca e studio della scogliosi, la SRS, ha stabilito che la colonna vertebrale non deve essere in un adolescente perfettamente dritta ma ha un valore di curvatura che può essere compreso tra 0 e 10 gradi, quindi al di sotto i 10 gradi oggi non dovremmo neanche più parlare di scogliosi anche se poi dal punto di vista rappresentativo questa è una colonna vertebrale non dritta Dottor Piazzolla, gli zaini molto pesanti possono rappresentare un rischio in futuro per i bambini? Allora, dobbiamo precisare che i nostri figli sono circondati dei rischi gli zaini pesanti costituiscono un rischio, questo è stato documentato dalla letteratura scientifica dove è sottolineata l'importanza di contenere il peso degli zaini al di sotto del 15% del peso corporeo dell'alunno addirittura questo valore dovrebbe essere ulteriormente ridotto al 10% lì dove ci si trovi di fronte a un bambino con una non perfetta muscolatura o perché no anche in sovrappeso ma come dicevamo i rischi sono costanti, sono tanti anche gli smartphone possono costituire un altro rischio infatti si è visto un aumento dell'incidenza dopo la fase Covid di quella che oggi noi chiamiamo postura smartphone-like cioè vediamo un aumento di adolescenti che sono portati ad avere una cifosi anteriore del racchide toracico alto e del racchide cervicale proprio perché hanno acquisito delle posture verosimilmente legate a un eccesso dell'utilizzo di questi dispositivi elettronici per cui il suggerimento è quello veramente di contenere l'utilizzo di questi dispositivi durante l'arco della giornata ma anche quello di educare i genitori a bilanciare i pesi è vero gli zaini sono pesanti ma non è detto che il 100% del nostro peso scolastico debba essere portato nello zaino dobbiamo sapere che lo zaino bisogna saperlo riempire quindi gli oggetti più ingombranti e più pesanti devono essere più vicini alla nostra colonna vertebrale quelli più leggeri, più piccoli, più lontani e soprattutto dobbiamo sapere che se una parte di questo peso invece che essere posizionato alle spalle della colonna vertebrale viene posizionato anteriormente va ad annullare un ugual peso posteriore quindi se io nello zaino ho 3 kg e in mano porto in una borsa un chilo o porto un vocabolario, un dizionario, un libro in mano il peso che ho sulle spalle non sarà di 3 ma sarà percepito come 3 meno il peso che io porto anteriormente quindi si crea una sorta di bilanciamento quindi di fatto il problema non è il peso il problema è fare educazione e fare educazione nelle scuole e fare educazione nelle famiglie prestando attenzione e spiegando anche che a scuola ci può andare, noi andavamo portando anche i libri in mano si può andare anche portando una cartellina una borsa, una valigetta oltre lo zaino, sopra le spalle grazie 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 a tutti.